Ciao a tutti da Vittorio, ovviamente Tati Castellanos è stato votato da quasi tutti i giornali come migliore in campo di Frosino nel Lazio. Del resto ha fatto due gol, ha avuto un'altra grande occasione su cui Turati ha fatto un mezzo miracolo, anche nel finale ha avuto un'altra occasione, lì secondo me poteva fare meglio. Comunque è innegabile che senza l'ingresso di Tati Castellanos probabilmente la Lazio non avrebbe vinto questa partita. E quindi ci si interroga se, vista anche la brutta prova di Ciro Immobile e bisogna dire che nell'ultimo mesetto Ciro non ha più trovato il feeling con i gol, ci si chiede se ci sarà un cambio là davanti, se Tati Castellanos adesso deve partire titolare. Ovvio, se si continuasse con il 4-3, se ci fosse stata ancora Maurizio Sarri, inevitabilmente credo che alla prossima partita Castellanos avrebbe giocato la centramanti nel 4-3 targato Maurizio Sarri. Con l'arrivo di Igor Tutor cambia tutto, cambia tutto perché la Lazio verosimilmente giocherà con un 3-4-2-1 o 1-2 e quindi bisogna vedere chi e come giocherà la Lazio là davanti. Certo, Tati Castellanos ha mandato un messaggio importante, ha fatto due gol che sono stati decisivi alla fine, due gol importanti e soprattutto secondo me in una settimana molto complicata, abbiamo visto alcuni giocatori veramente fare fatica, Castellanos ha giocato con la cattiveria, con la grinta, con la determinazione che io speravo di vedere in tutti i giocatori. Dopo la settimana brutta, dopo che il tuo allenatore è stato esonerato, io speravo di vedere i giocatori veramente giocare con il sangue negli occhi e invece purtroppo abbiamo visto i soliti giocatori della Lazio. Tramme Tati Castellanos che invece è entrato, primo pallone gol, secondo pallone miracolo di Turati e terzo pallone gol. Sì, il terzo gol obiettivamente credo l'avrebbero segnato tutti, però devi essere bravo e fortunato a trovarti nel momento giusto, nel posto giusto e Tati lo è stato. E' anche vero che hai fatto due gol al Frosinone, qualcuno ha scritto lo scorso anno ne ha fatti quattro al Real, quest'anno ne ha fatti tre al Frosinone. Non è proprio la stessa cosa, mi sembra evidente, però bisogna buttarla dentro e Castellanos dal gol proprio contro il Frosinone non l'hai più buttata dentro. Ecco, ieri c'è stata una reazione importante da parte dell'argentino, anche un messaggio probabilmente al nuovo allenatore Igor Tudor che dovrà scegliere. Non so se Tudor sceglierà Tati Castellanos, sicuramente ieri ha visto la partita, anche se era a casa in Croazia, e avrà preso delle note importanti. Ecco, sicuramente Ciro non ha mandato dei messaggi positivissimi, mi è sembrato un giocatore poco convinto, e il centravanti deve essere sempre convinto, dall'altra parte che a 6 anno si ha fatto finalmente una partita buona. Certo, ripeto, Frosinone è una delle squadre che ha subito più gol nelle ultime giornate, quindi questi gol hanno un valore sicuramente per la Lazio, ma bisogna anche dargli un peso onesto, non è segnare contro il Milan, non è segnare contro l'Atalanta. Però, visto la competizione, beh, Tati merita di ripartire titolare la prossima partita, anche se la prossima, io ricordo, è contro l'Iwe. Attenzione perché Tudor potrebbe anche optare per il doppio centravanti, ovvero Castellanos, vicino a Ciro Immobile. È una soluzione che potrebbe essere scelta dal nuovo allenatore della Lazio, però la vedo un po' complicata. Sicuramente Castellanos ha finalmente mandato dei segnali positivi. Castellanos era uno che ha sempre lottato, però secondo me, tranne la partita contro il Frosinone, ho sempre visto troppo spesso spalle alla porta, troppo spesso in posizioni in cui tirare era praticamente impossibile. Invece, contro il Frosinone abbiamo visto un Castellanos diverso. Forse tutta la rabbia accumulata in questa settimana lo ha galvanizzato e ha dato l'energia per cambiare rotta. E questo è sicuramente un dato positivo. Ricordiamoci, Castellanos è costato tanto alla Lazio, finora ha reso pochissimo. Ecco, bisogna anche dire che Castellanos però è a quattro gol in una stagione dove non è partito a titolare tantissimo. E quindi anche qui, in una Lazio in cui si segna pochissimo, i quattro gol di Castellanos sono sicuramente un fattore importante. Castellanos quindi migliore in campo, ma prima di dire che abbiamo finalmente un centravanti importante, direi di aspettare test più probanti come quelli che arriveranno contro Juventus e contro la Roma. Insomma, ci vuole ancora, non ci dobbiamo sbilanciare subito, non bastano due gol al Frosinone per dirci Castellanos è fortissimo e lui il futuro della Lazio. Bisogna confermarlo in queste ultime partite della stagione. Ma non voglio parlare solo di Tati Castellanos, voglio parlare anche di Mandas. Ieri titolare, ovviamente per l'infortunio di Provedel, ecco, Mandas era una situazione molto complicata. L'ha detto anche Martuscello ieri in post partita. Giovane, straniero, arriva in una situazione difficilissima perché la Lazio è contestata, l'allenatore si è dimesso e tu ti trovi a giocare titolare. C'erano tutte le condizioni per una partita disastrosa. Invece Mandas, secondo me, ha fatto un'ottima partita. Certo, qualcuno ha scritto, ha sbagliato il passaggio e ci avevano pareggiato. Sì, è vero, però bisogna anche dire che tu, difensore, non gliela devi mai passare in quelle condizioni al portiere. Mandas era marcato, ha dovuto calciare velocemente il pallone, ha calciato anche col piede sbagliato ed è successo il patatrack. Però, tolto quell'episodio, Mandas, secondo me, ha fatto un paio di interventi molto importanti. Il primo, il primo tiro dove addirittura la blocca, non era un tiro difficilissimo. Però, sai, primo tiro, se è ancora freddo, parata non difficilissima ma neanche facile, tu la blocchi, secondo me, mandi un segnale a tutto il reparto. Ma quello che mi è piaciuto tantissimo di Mandas sono stati i minuti finali. Perché, negli ultimi minuti, il Frosinone ha mandato tantissimi attaccanti e buttava sempre il pallone dentro un'area di rigore. Per un portiere, magari, non sicurissimo, quelle sono palle velenose. E invece, Mandas ha fatto un paio di uscite buone, anticipando tutti, ma dando un segnale importante, non solo agli avversari, ma anche ai compagni di squadra, dicendo io ci sono, sono pronto e non ho paura di uscire. E poi, quello che non sottolinea nessuno, mi dispiace, perché, secondo me, dovrebbero fare un paio di replay, soprattutto da dietro, Mandas fa due parate, una su Valeri, secondo me, molto, molto buona. Quella è una parata difficilissima, perché Valeri ha un bel tiro, ce lo ricordiamo con la Germonese, fa un bel tiro, la palla viene deviata, quindi la traiettoria cambia, e Mandas è così bravo da riuscire ad aggiustare la mano di richiamo e andare a prendere il pallone e deviare il calcio d'angolo. Quella è una parata che molti non considerano, ma che in realtà è un ottimo intervento. E ne fa un'altra anche dopo. Insomma, Mandas ieri ha fatto, non dico un partitone, però ha fatto dei buoni interventi. Ricordiamoci che parliamo di un portiere di 22 anni, un portiere che ha giocato pochissimo, un portiere che però, oh, nel derby di Coppa Italia, senza strafare, ha fatto bene, e non era facile esordire nel derby, e contro Frosinone fa il suo esordio in campionato al primo minuto, in una situazione molto complicata, visto la situazione della Lazio, eppure fa un partitone. Ecco, segnali molto incoraggianti da parte del portiere greco, che, non lo so, adesso c'ha l'opportunità, credo, perché non credo che il provvedere riuscire a tornare prima della partita della Juventus, di mettersi in mostra, di mostrare a tutti il proprio valore. Attenzione, perché, insomma, con il nuovo allenatore qualcosa potrebbe cambiare, se Mandas si mette in vetrina e dovesse fare molto bene. In chiusura, voglio parlare anche di Daichi Kamada. Ieri sono stato sorpreso, non so se voi avete avuto la stessa sorpresa, di vedere Kamada entrare al posto di Zaccagni, io pensavo sarebbe entrato al posto di Luzalberto, invece Zaccagni è uscito, è entrato Kamada e ha fatto l'attaccante esterno. Non so se avete seguito la partita su Sky, ma gentile, dice una stupidaggine, perché Kamada ha già giocato esterno di sinistra nella Lazio di Sarri, lo ha fatto nel derby, se vi ricordate, negli ultimi minuti, e non solo, quindi gentile, sbaglia nel dire che non era mai successo. Era successo, però, a differenza nel derby, ho visto un Kamada, non solo cattivo, ha recuperato un sacco di palloni, ma decisivo, importante, incisivo, ha fatto un paio di giocate buone. Sì, solo davanti a Turati la passa a Castellanos che sbaglia, io la volevo vederlo concludere, però ho visto un Kamada che ha fatto vedere il suo talento, la sua qualità, e soprattutto, finalmente, sottolineo finalmente, la cattiveria. È entrato, ha rubato un sacco di palloni, combattuto, non è che il pallone gli è capitato addosso, no, l'ha strappato, l'ha sradicato da piedi degli avversari, mostrando quella cattiveria che finora non l'aveva mai messa in mossa. Non solo, tornando all'episodio in cui passa la palla a Castellanos che tira fuori, se andate a vedere il replay, si vede un Kamada incavolato verso Castellanos. Ecco, segnali incoraggianti, segnali positivi dal giapponese. Io ripeto, la Lazio deve cercare di recuperare il giapponese perché è un giocatore di talento. Se se ne andrà a giugno, sarebbe una sconfitta clamorosa per la Lazio. Bisogna cercare di convincerlo a restare la Lazio, anche perché, detto fra di noi, secondo me, fra Luis Alberto e Kamada, è Kamada che si adatta meglio ai schemi di Igor Tutor. Per cui mi auguro che questa partita possa essere anche il punto di svolta per Daichi Kamada che da qui in poi deve dimostrare a tutti il suo vero valore. Perché, ripeto, questo giocatore ha qualità importanti. Secondo me, un po' Sarri, che è un po' scorbutico, un po' lui, un po' timido, non si sono trovati e quindi le cose non sono andate bene. Adesso, però, non si può più tirare indietro. Adesso Kamada deve dimostrare a tutti il suo valore e sabato sera contro Frosino abbiamo visto piccoli, piccoli segnali incoraggianti. Non mi voglio sbilanciare, non voglio dire è tornato Kamada, eccetera, eccetera, però sicuramente segnali positivi per il futuro del giapponese alla Lazio. Ovviamente questo è il mio giudizio. Tu che ne dici? Schrivo i momenti qua sotto. E noi ci ritroviamo domani mattina alle 8 con Good Morning Lazio che trovate sia sul mio canale YouTube sia in versione podcast su Spotify, Spreaker, eccetera, eccetera. Ciao!